Eccoci ritrovati in studio, terza ed ultima parte del nostro notiziario AC News, andiamo subito a vedere quello che è un po' il bollettino medico alla ripresa di domani. Saranno infatti da valutare le condizioni di alcuni infortunati, con grande probabilità già da domani Samuele Sereni, rimasto a casa nell'ultima partita in casa dell'Alessandria, tornerà ad allenarsi in gruppo. Era stato fermato il difensore per un fastidio all'adduttore. In via di miglioramento invece le condizioni fisiche di Butic, che tuttavia proseguirà i lavori secondo la propria tabella personalizzata. Difficile pronunciarsi invece sulla situazione di Salifu, che dopo essersi fratturato il metacarpo in allenamento dovrà subire un intervento chirurgico. I tempi di recupero potranno quindi essere stabiliti soltanto all'indomani dell'operazione alla mano. La permanenza in categoria adesso passa anche dalle sentenze dei tribunali. Nella giornata di lunedì, infatti il procuratore federale a seguito della segnalazione della Covizoc ha deferito i legali rappresentanti delle società Siracusa, Cugno e Lucchese per mancato versamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi IMSS ai propri tesserati e dipendenti entro il termine previsto del 18 marzo. Tutte e tre le società sono state inoltre deferite a titolo di responsabilità diretta e dovranno pertanto presentarsi davanti al tribunale. La situazione più allarmante resta quella della Lucchese. Il club Rosso Nero e il suo legale rappresentanti sono stati deferiti anche per non aver provveduto nei termini previsti dalla normativa federale al pagamento totale della sanzione dell'ammenda di Euro 350 mila. Si attendono dunque nel giro di poche settimane ulteriori penalizzazioni per le due società che potranno poi ricorrere in appello per ottenere degli sconti. Ma andiamo adesso anche a fare la nostra consueta carrellata sui campionati del settore giovanile dell'Arezzo. La Berretti viene dal turno di riposo. Manca soltanto una gara al termine del campionato per la squadra di Mister Longo che ha già conquistato un posto di diritto alle finali nazionali del campionato Dante Berretti. Giornata positiva invece quella di domenica scorsa per l'Under 17 e l'Under 15 a Maranto a Viterbo. La squadra di Mister Gioacchini ha infatti superato gli avversari 1-0 grazie al gol di Steccato. Giunto sul finale gli arretini hanno così recuperato posizioni in classifica ponendosi sul secondo gradino in coabitazione con il Siena e la Pistoiese a quota 33 punti. L'Under 15 di Mister Bernardini ha invece pareggiato 2-2 con la Viterbese Castrense in gol per i cavallini rampanti Artini e Ditora. La squadra si conferma in sesta posizione con 29 punti messi in cassaforte dall'inizio della stagione. Termina 2-2 anche la gara cittadina dei baby di Mister Vincenzo Bove contro i pari di età della Tuscar mentre prosegue purtroppo la parentesi negativa per la Under 16 di Mister Sussi che alla ripresa del campionato in casa dell'Almafano viene battuta di misura dai padroni di casa. Di nuovo al lavoro le rappresentative di Lega Pro Under 17 e Under 15 guidate dal CT Daniele Arrigoni. Gli Under 17 giocheranno questo pomeriggio alle ore 15 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, un amichevole contro la Fermana Under 17. Toccherà poi ai ragazzi della rappresentativa Under 15, già da oggi il raduno, scendere in campo domani alle ore 15 nello stesso stadio per un amichevole contro la Fermana Under 15. Tra i convocati nella rappresentativa di Lega Pro anche Marco Perlegrini della Under 17 Amaranto e Matteo Bonavita dell'Under 15 di Mister Bernardini. Termina qui l'edizione odierna di AC News, noi ci ritroviamo domani sempre alle 13.20 ma ovviamente questa sera non mancate alle ore 19.50 all'appuntamento con Amaranto World, il programma condotto dal direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.